La questione è enorme, quale destino per i cittadini europei che si sono uniti all'ISIL e che ora finita l'avventura bellica vogliono tornare in patria. La strada che indica un tribunale londinese ha una porta chiusa. Il tema ritorna agli onori della cronaca con la storia di Shamim Mabegum, una donna britannica che si è unita all'ISIL quando aveva 15 anni e che oggi, 23 anni, ha perso un ricorso al Tribunale dell'Immigrazione contro lo Stato, che le aveva ritirato la cittadinanza britannica per motivi di sicurezza nazionale. Facendo causa, la giovane ha argomentato che le autorità avrebbero dovuto considerare il suo caso tratta di minori e che, raccogliendole la cittadinanza, Londra l'ha resa apolide. Ma i suoi avvocati non hanno avuto la meglio.